Occhi puntati stasera sulla finale di Federica Pellegrini nei 200 stile libero, la sua gara. Cercherà il podio a 28 anni nella notte italiana poco dopo le 3, ma la regina del nuoto azzurro dovrà affrontare la teenager americana Ledecky e la primatista svedese Sjostrom, avversarie di tutto rispetto. E' grande attesa anche per la decisione finale sul ricorso di Alex Schwarzer. Per il marciatore altoatesino accusato di doping, la IAF avrebbe chiesto 8 anni di squalifica. Dopo un'udienza interminabile il Tassa ha promesso una decisione entro venerdì. Un altro rinvio, l'ennesimo, mentre il medalliere azzurro continua ad arricchirsi. Alle Olimpiadi riscopriamo i nostri tiratori. Oro nella carabina a 10 metri per Campriani e argento nella fossa per Pellielo. 46enne vercellese da 4 podi in 12 anni. Intanto proseguono i giochi con i canottieri azzurri promossi al turno successivo con grande dimostrazione di forza. Delusioni dalla spada individuale. Si spera ora nel judo. Per completare il quadro in Brasile, gare di basket, tennis, beach volley e tante altre sfide. Tutte da seguire.